Sono in pochi a parlare degli strascichi che la malattia del covid porta con sé. Pare infatti che una volta l'esito del tampone dia negativo, tutto sia passato. Non sono pochi invece coloro che risentono degli strascichi della malattia con sintomi che vanno dalla stanchezza cronica, all'impossibilità di respirare a fondo, al fiato corto fatta a mezza rampa di scale. Ebbene interviene la sensibilità della pubblica amministrazione di Arzignano che proprio a questi cittadini si rivolge per supportare con un aiuto economico le diverse cure del post-covid. Vogliamo quindi dare un aiuto per quanto possiamo come comune, un aiuto economico a quelle persone che stanno ancora male e abbiamo istituito questo fondo di 15.000 euro per un rimborso di spese mediche che dovranno essere documentate. Il contributo sarà di un massimo di 800 euro e sarà legato al limite ISEE. Una visione lungimirante dunque con l'aiuto economico che viene riservato, lo ricordiamo, a quanti hanno un ISEE ordinario e corrente fino ai 40.000 euro.